salve ragazze eccoci qua nella seconda parte del video precedente se non l'avete ancora visto vi consiglio di andarlo a vedere innanzitutto perché vi ho mostrato le altre unghiette già finite che vedete qui nel quale diciamo siamo andati a realizzare il baby boomer con glitter e paillettes incapsulati invece in questo video qui vi vado a mostrare il resto delle unghie come l'abbiamo realizzate abbiamo utilizzato sempre primer a base come vi ho detto anche nel video precedente e poi siamo andati a ricrearci questo baby boomer utilizzando semplicemente l'acrigel termos che trovate sempre tutto sul sito di BNAIL e c'è anche per voi un codice sconto del 10% vi lascio tutto scritto giù dopo in descrizione e stavo dicendo che siamo andate a prendere appunto questa acrigel termos gli acrigel termos per chi magari non li conosce ancora sono degli acrigel che cambiano colore in base alla temperatura calda o fredda che sia poi dopo vi faccio vedere l'effetto finale sono andate a prendere prima di tutto abbiamo scelto questo colore qui l'acrigel termos violet pink perché si abbina alle altre unghie appunto incapsulate che abbiamo fatto nell'altro video abbiamo scelto questo colore violet pink siamo andate a mettere una piccola quantità di acrigel in punta come state appunto vedendo nel video e andiamo a modellarlo come facciamo con un classico baby boomer lo cominciamo a modellare in punta e poi arrivati dalla parte centrale salendo verso il giro cuticole cominciamo a sfumarlo quanto più possibile vedete che già mentre lo modello poiché l'unghia della mano diciamo della modella che ho qui disponibile è calda quindi con il freddo è viola con il caldo è rosa quindi vedete che mentre lo modello man mano che sale verso il giro cuticole l'acrigel comincia a cambiare colore vedete man mano comincia a diventare sempre più rosa e niente faccio questo passaggio per tutto il resto delle unghie che appunto non abbiamo realizzato il baby boomer incapsulato quindi facciamo questo per il restante delle unghie stesso procedimento tutte quante e poi mandiamo in lampada per 60 secondi ah, facciamo questo anche per i due pollici andiamo in lampada per il ripieno terminata la polimerizzazione di questo acri gel termos andiamo a prendere questi nuovissimi acri gel glitter che trovate sempre sul sito di binail che sono bellissimi li trovate in tre tonalità differenti ve li ho mostrato anche in un video precedente dello spacchettamento quindi se magari non l'avete ancora visto andatelo a rivedere e poi andiamo una piccola quantità a prima di tutto vedete è lunga uscita dalla lampada ormai tutta calda ed è diventato praticamente rosa allora mettiamo una piccola quantità di questo acri gel glitterato io in questo caso ho scelto il glimmer rosso perché comunque si adattava a questo tipo di nail art che che siamo andati poi a realizzare metto una piccola quantità di prodotto nella parte superiore e vado a ricrearmi la mia bombatura come fate nella maniera classica prima nel giro cuticole poi ci spostiamo il prodotto e ci aggiustiamo i laterali poi arrivati dalla parte centrale dove comincia ad aumentare un pochettino più la bombatura nel punto di stress cominciamo poi a sfumare sempre in maniera molto delicata verso la punta vedete come si comincia a creare già questa sorta di sfumatura perfetta io infatti l'acri gel lo amo tantissimo soprattutto per questi baby boomer anche un po più particolari perché si si ricreano appunto queste sfumature così non lo so così belle lascio a voi il giudizio poi vado a fare la stessa cosa per i pollici come vi ho detto prima vedete sul pollice sono andata a prendere un po più di acri gel a questo acri gel vi dicevo io ho scelto la tonalità glimmer rose come vedete di un rosa molto tenue delicatissimo e all'interno questi micro glitter che sono veramente molto molto belli sono veramente micro quindi ricreano un effetto molto molto leggero e luminoso all'acri gel mi piacciono tantissimo quindi vi consiglio di acquistare anche questi qui e poi magari dopo giù in descrizione vi lascio anche tutti i link diretti poi una volta finite tutte le unghie mandiamo in lampada sempre per 60 secondi una volta asciugato andiamo a sgrassare il tutto con il cleaner dopo aver sgrassato cominciamo il procedimento di limatura che vi faccio vedere soltanto un'unghia perché comunque questo passaggio lo conoscete tutte vado a farmi prima vabbè la forma vado ad aggiustarmi prima la forma nel laterale e nella punta poi vado nel giro cuticole e poi mi aggiusto la parte dove diciamo si unisce l'acri gel della parte superiore con quello della parte inferiore e lì vado ad aggiustarmi la sfumatura poi la parte di sotto l'unghia dopodiché vado a spolverare bene bene il tutto e cominciamo ad applicare un bel lucido molto molto luminoso in modo tale che valorizzi al meglio anche il nostro lavoro e il lucido vi consiglio sempre quello di Be Nail che è il top finish super luccicante mi era finito quindi io in questo caso sono andata ad utilizzarne un altro però io vi consiglio utilizzare quello anche perché è senza dispersione e ragazze come lucido senza dispersione è veramente ottimo dopo aver fatto questo passaggio e averle fatto asciugare in lampada sono andata poi successivamente a mettere l'olio cuticole e quindi diciamo che la mia nail art è praticamente terminata adesso vi faccio vedere l'effetto la faccio andare in acqua ho preso due ciotoline una con acqua fredda e una con acqua calda in modo tale che vi faccio vedere l'effetto che hanno sia con la temperatura calda che con la temperatura fredda vedete questo qui è con la temperatura fredda un bellissimo viola e quest'altra mano è con la temperatura calda un rosa molto molto bello spero che il video vi sia piaciuto queste qui sono le foto del risultato finale mi raccomando seguitemi anche su instagram e su facebook se vi fa piacere e lasciate un bel like al video se vi è piaciuto ci vediamo presto ciao a tutte